I carabinieri della compagnia di Bra, nella giornata di martedì, hanno rintracciato un paziente psichiatrico giudiziario che si era allontanato dalla casa di cura San Michele di Bra, dove era stato trasferito nei giorni scorsi perché sottoposto ad una misura di sicurezza sanitaria. L'allarme al 112 è scattato poco dopo le 22 di martedì 24 novembre, quando alla centrale operativa di Viale Costituzione è stato segnalato l'allontanamento di un internato nel reparto REMS, residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria della casa di cura situata in strada San Michele a Bra. Immediatamente è stato attivato il protocollo di intervento per la ricerca messo a punto nelle scorse settimane. In pochi minuti tutte le pattuglie sul territorio e i carabinieri reperibili si sono attivati per intercettare l'uomo. 14 gli uomini impiegati nelle ricerche, che hanno in breve tempo dato esito positivo. Attraverso la diramazione della foto segnaletica del paziente a tutte le forze dell'ordine in zona, il presidio dei punti nevralgici della città, principale videaccesso, stazione ferroviaria e autobus, è stato possibile rapidamente individuare e fermare l'uomo, che non ha opposto resistenza, ed è stato riportato alla clinica circa 20 minuti dopo la segnalazione di allontanamento. I carabinieri di Bra l'hanno trovato a bordo di un treno in partenza per Torino, alla stazione ferroviaria cittadina. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'episodio, non nuovo per la casa di cura braidese. Ricordiamo che si tratta del secondo episodio nel giro di una ventina di giorni. L'altra fuga è avvenuta il 4 novembre, quando Pier Giacomo Azzolin, che è ancora ricercato e ritenuto socialmente pericoloso, scappò poche ore dopo il suo arrivo nella struttura.